Nominato il nuovo direttivo dell'Artistic Picenum, l'Associazione Policulturale Grotta Ammarese ha già in programma una serie di appuntamenti. Ad illustrare tutte le novità sono nostri ospiti il presidente Giuseppe Cameli e la vicepresidente Martina Gasparrini. Allora sarà un 2024 ricco di tante iniziative, spazieremo come è nostra tradizione guardando all'orizzonte del 2026 parlando un po' di musica, parlando moltissimo anche di cinema e soprattutto di cabaret, con la novizia di Zelig Open Mic nella città di Pedaso. Ci sposteremo poi anche a Grotta Ammare, a Riva Transone, nostre sedi diciamo naturali e che ringraziamo per l'accoglienza. Ringrazio sin da subito tutto il gruppo associativo, il neodirettivo in rosa e lascio la parola a Martina per anticiparvi le novizie di Pedaso. Il primo evento del nuovo anno sarà appunto Zelig Open Mic, abbiamo collaborato con Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig. Tre saranno le date che prevederanno delle selezioni itineranti per i comici emergenti. 20 gennaio e 24 febbraio le due semifinali e 16 marzo la serata finale. Durante le tre date ci saranno ospiti d'eccezione Leonardo Manera, Piero Massimo Macchini e Giovanni Cacioppo. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Grazie.